Ciao a tutti ragazzi e bentone sul canale, non si parla in Roma ma si parla di cinema perché questo è il terzo appuntamento con il film del giorno Oh ragazzi bentone sul canale, allora siamo qui per parlare di cinema vi sto per consigliare un film ragazzi che è una vera chicca mi è capitato per caso, si chiama Casa Casinò il protagonista Will Ferrell e il famoso fantastico Pimento di Brooklyn Nineveh il nome dell'attore mi sfugge, vi metto magari qui una foto, qui in qualche parte e il film come vi diciamo si chiama Casa Casinò Casa Casinò è un film che mi ha colpito e mi ha stupito un film ragazzi che fa ammazzare le risate, veramente geniale imprega la storia di questi genitori che vedono la figlia essere accettata a un prestigioso college loro non hanno diciamo molti soldi a disposizione e confidavano insomma nella borsa di studio che aveva preso la figlia borsa di studio che viene negata e loro dovrebbero inventarsi qualcosa per riuscire a mandare la figlia al college nella stessa, in una situazione simile, analoga a loro, con problemi economici c'è il magico Pimento di Brooklyn Nineveh che si è appena lasciato con la moglie che ha la casa pignorata dalla banca deve cercare insomma di raccimolare qualche soldo per mantenere la casa e decidono di aprire questo casino opposivo ragazzi da qui in poi ne succedono veramente di tutti i colori quindi vi lascio al film se siete curiosi come al solito vi consiglio di andare a cercare prima il trailer su youtube ma questo film ragazzi ve lo consiglio assolutamente come potete vedere ho molto entusiasmo per raccontarvi questa chicchetta quindi mi raccomando Casa Casinolo lo trovate su Infinity oppure lo rimediate come volete voi ma vedetelo sicuramente è un filmore un palpaggio ragazzi da Big è tutto ciao alla prossima